Le mantellate sono delle sole, ma Roma sono soltanto celle scuole. La campana, la zona, tutte le ore, ma Cristo non c'è sta e fa sdemondare. Ma che parlate a fare? Ma che parlate a fare? Qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciana del convento vecchio. Salto le maglie a posto, visto un letto, mezza bagnotta e l'acqua rientrarsi più. Le mantellate sono delle sole, ma Roma sono soltanto celle scuole. La campana, la zona, tutte le ore, ma Cristo non c'è sta e fa sdemondare. Ma che parlate a fare? Ma che parlate a fare? Qui dentro c'è sta solo infamità. La campana, la zona, tutte le ore, ma Cristo non c'è sta e fa sdemondare. La campana, la zona, tutte le ore, ma Cristo non c'è sta e fa sdemondare. La campana, la zona, diventare. Giusti a valutare. Becky andRI